La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto l'ennesima truffa realizzata ai danni dell'Unione Europea, mediante finanziamenti illegittimamente ricevuti tramite la legge 488. Questa mattina sono stati effettuati arresti e sequestri in Calabria, Lazio, Piemonte e Liguria. Non si dà pace a Monia Marchio, la mamma della piccola Daniela Esposito, 15 mesi, di Petrona, deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì nell'ospedale di Catanzaro. Secondo la famiglia, la bimba è arrivata in ospedale alle 14 ed è stata ricoverata dopo otto ore e un medico che doveva essere reperibile quella notte si è presentato dopo due ore dalla chiamata. È stabile, alla bambina non c'è pericolo di vita, all'una. Alle due ne arriva un altro, ma mia figlia cosa c'ha? È un pericolo di vita. E allora perché mi dicono di no? Nesce un altro e è in coma. Dopo un'altra ora alle tre è morta. Come è possibile che in tre ore mia figlia è morta e si era stabile? E non me la facevano vedere. Intanto l'azienda ospedaliera ha nominato una commissione d'inchiesta. Spuntano anche i servizi segreti nell'indagine sulle presunte irregolarità nella realizzazione della centrale termoelettrica di Scandale a Crotone. Nel registro degli indagati, oltre a personaggi illustri come Chiaravalloti, Galati, Bonaldi e Grazioli, è finito il capo della security di Wind, Salvatore Cirifalci, per delle schede telefoniche clandestine e per questo difficilmente rintracciabili. Nell'ambito dell'indagine a Energiopoli, la procura ha disposto due ispezioni presso la Wind. Del caso si occuperà anche il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Sono cinque i vibonesi finiti nel mirino della magistratura per truffe su Ebay. Avrebbero venduto online prodotti poi mai consegnati agli acquirenti. Il sostituto procuratore Santi Cutroneo ha già firmato cinque avvisi di conclusione delle indagini a quattro giovani e un'ultra cinquantenne, tutti di vibbo. Nell'occasione il magistrato ha invitato coloro che subiscono degli inganni su internet a denunciare gli episodi, perché, come in questo caso, è possibile risalire ai truffatori. Arrivano 200.000 euro per il futuro aumento di capitale della società Sant'Anna che gestisce l'aeroporto di Crotone, a deliberare la somma immediatamente utilizzabile la provincia di Crotone. I fondi serviranno per affrontare delle emergenze, tra cui il pagamento degli stipendi arretrati, la definizione dell'avvertenza, con Equitalia ed altre necessità impellenti. Intanto la società è entrata in fase di liquidazione controllata. L'Istituto Industriale Fermi di Fuscaldo nel Cosentino sbarcherà sulla luna e su masse. La scuola è stata infatti coinvolta nel progetto COSMIC, che prevede missioni spaziali finalizzate ad estrarre e utilizzare risorse come ossigeno e azoto. Si tratta del primo progetto italiano finanziato dall'ASI nel settore dell'esplorazione spaziale, sviluppato dall'Università di Cagliari in collaborazione con il CNR. Il Museo dell'Andrangheta di Reggio Calabria è stato completato e sarà inaugurato il primo dicembre. La struttura è stata realizzata a Croce Valanidi, nella periferia sud della città, in una villa a tre piani confiscata dalla criminalità organizzata. Il museo aprirà i battenti con una mostra fotografica dal titolo Silenzio e Memoria, curata da Adriana Sappone, per tutti coloro interessati ad approfondire il fenomeno dell'Andrangheta. Il 30 novembre prossimo la commissione co-mafia e diretta da Gaetano Pecorella sarà in Calabria fino al 3 dicembre per verificare l'andamento dei monitoraggi che si stanno effettuando sia in mare che sulla terraferma sulla presenza di scorie tossiche. Intanto lunedì inizieranno gli studi dei tecnici dell'ISPRA sul fiume Oliva da Iello Calabro. Domani alle 15.30 scatta l'ora dell'atteso derby calabrese di Serie B tra Crotone e Regina sul terreno dell'Ezio Scida e da cui purtroppo non potranno assistere i soli tifosi dello stretto. I rosso-blu vengono da tre vittorie consecutive, hanno 16 punti in classifica e sono molto carichi di morale, situazione opposta per gli Amaranto che nelle ultime tre gare hanno raccolto solo tre punti, media salvezza per una squadra che all'inizio del campionato era tra le favorite alla vittoria finale. Sì, una partita importante, un derby, incontriamo una squadra che non è partita come tutti si aspettavano e anche loro, una squadra costruita per vincere il campionato e quindi per noi c'era una partita molto delicata insomma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.